A sostenere questo forum della comunicazione anche Centro, Marca, Banca. Abbiamo ai nostri microfoni il presidente Tiziano Cenedese. Sentiamolo insieme. Tra i partner che hanno sostenuto il forum della comunicazione di imprese tenuto da Coldiretti Treviso, anche Centro, Marca, Banca, da sempre al fianco delle aziende per affrontare le sfide del prossimo futuro. Assolutamente sì. Oggi c'erano due argomenti in realtà. C'era la comunicazione collegata un po' anche a dell'intelligenza artificiale. In tutto questo Centro, Marca, Banca dovrebbe in qualche modo supportare, accompagnare tutte le aziende del settore primario in cui noi crediamo moltissimo affinché tutte queste generino valore aggiunto da tutta questa intelligenza artificiale che oggi è poco usata nel settore, se ne parla moltissimo, però è un problema che va comunque gestito a tutti i livelli, anche dal nostro punto di vista. Tuttavia l'aspetto più cruciale, secondo Centro, Marca, Banca, rimane uno. Questa intelligenza artificiale ha un grandissimo difetto, ha un pregio che elimina molto le distanze, accorcia molto i tempi, ma ti modifica un pochino le relazioni, che è uno dei punti di riferimento che noi come azienda di territorio, non ci piace definirci banca, ma azienda ad altissimo impatto sociale dobbiamo avere. Noi dobbiamo cercare di accompagnare queste aziende a sviluppare anche una sensibilità nell'utilizzare per la vendita dei loro prodotti in modo più corretto anche questi problemi e affiancandola a una buona comunicazione. Un istituto bancario dà la grande responsabilità sociale attento al tessuto rurale per favorire la qualità di vita delle famiglie. La qualità della vita oggi è importantissima, quantità anche non solo in termini di benessere economico piuttosto che fisico, piuttosto che tempo libero eccetera, ma partiamo facendo un pezzettino indietro che riguarda molto più da vicino anche la filiera agricola e la qualità di quello che mangiamo, perché attenzione che tutta la qualità parte da quello, quindi invito a puntare molto sulla qualità e comunicarlo in modo corretto a tutti i nostri agricoltori, soci e clienti.